Romina Power sconvolge Albano. La passione segreta rivelata soltanto ora Romina Power lascia tutti senza parole con una serie di scatti e un messaggio esplicito che rivelano la sua vera passione L'ex moglie di Albano, Romina Power, ha conquistato in questi ultimi anni la serenità mediatica La cantante fino al 2020 era sempre al centro del gossip perché la sua attività musicale l'aveva convinta a tornare in coppia con l'ex marito I giornali scandalistici cercavano sempre prove del fatto che il ricongiungimento nascondesse anche un ritorno di fiamma tra di loro A mettere le cose in chiaro una volta per tutte ci ha pensato il cantante di Cellino San Marco Concluso il primo lockdown, infatti, l'artista ha ufficialmente annunciato il ritorno in coppia con Loredana Lecciso Smentendo tutte le voci di una possibile storia d'amore con l'ex moglie Ancora una volta ha chiarito che lui prova solo affetto per Romina e che ormai la reputa la stregua di una sorella Non sappiamo se queste parole siano condivise o meno da Romina Power, ma di certo di questa presa di posizione ha beneficiato anche lei Adesso l'attenzione mediatica in Italia e all'estero è meno asfissiante e si può dedicare a tutto ciò che le piace fare nella vita Ha tutte le sue passioni Romina Power e la passione per gli uccelli L'inizio estate è stato ricco di impegni per Romina Power La cantante è stata a Roma per il compleanno della figlia Romina Carrisi e in quella occasione si è rivista anche con Christel Poi c'è stato il viaggio in India Quello in Messico in cui ha passato del tempo anche con il figlio Yari Al quale ha fatto una dedica molto speciale Che bello stare al mare anche con una sola persona Ma che ti capisce Un periodo, questo estivo, che non sarà esclusivamente di relax e riposo Ma anche di lavoro Qualche giorno fa, infatti Romina ha pubblicizzato il proprio ritorno alle tenute al Bano per una due giorni di corsi di yoga Anche in questo caso non viene spezzata la ricerca della serenità e viene aggiunta quella delle spiritualità Un percorso a cui la Power tiene molto da sempre Nell'ultimo post pubblicato su Instagram Poi, Romina svela al suo pubblico affezionato un'altra passione che concilia il relax Il bird watching Non molti sanno che l'artista è amante dei volatili e che quando ha tempo si sofferma ad osservarli e a fotografarli Nel post pubblicato sui social ha offerto un piccolo saggio di questa sua passione Mostrando alcune delle foto scattate e commentando con un semplice Birds iscriviti al canale Grazie a tutti.